Sai che andiamo a fare il Meir dopo tanti anni? Roberto dove ti ho portato? Sì, è vero è qua Robè abbiamo fatto un tratto che non si doveva fare è un percorso alternativo è tutto coperto è un percorso alternativo oh è schiappato è schiappato è è è è è a 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 ah sono stanco Robby sono stanco sono stanco le mani queste queste robbie faccio male devo saltare però e mo sono stanco vabbè iniziamo a mo mo vedi questo si è copiato così io stai parlando io a a a a